Siamo cresciuti molto e quindi adesso allenarsi all'aperto è diventata una cosa accettata, normale, bella, divertente. La gente ha capito che si può fare e che si possono ottenere risultati e che ci si può divertire. La cosa che mi ha colpito particolarmente è che tu suggerisci un allenamento in sei minuti, ovviamente per strutturare comunque gli addominali, anche il basso ventre, insomma un allenamento completo. Come si può realizzare però tutto questo in così pochi minuti? Ma diciamo che ci sono due spiegazioni, la prima è quella tecnica, il tipo di allenamento che faccio io è un allenamento ad alta intensità, quindi gioco molto sulla qualità dell'allenamento, sull'intensità, sui tempi di recupero, quindi in questo modo si possono fare anche dei protocolli molto brevi e questo non l'ho inventato io, è proprio scritto nella letteratura sportiva, per cui i parametri fisiologici sono stati studiati da anni, i primi studi sull'allenamento ad alta intensità risalgono agli anni 80 addirittura. Quindi sto applicando un metodo che comunque si può anche effettuare in pochi minuti. E poi io mi immedesimo molto nelle persone, in realtà comunque dopo tanti anni di esperienza ho selezionato, ho capito quali erano le scuse più frequenti, quindi ho cercato di proporre un allenamento dove ti metto di fronte a un muro, non hai scuse, perché dura poco. Cosa ti piacevano per evitare comunque l'esercizio fisico? Numero uno delle scuse, di solito io lo chiamo il libro delle scuse, proprio il primo capitolo, cioè non ho tempo, proprio scritto a caratteri cubitali, non ho tempo, che è proprio una scusa... Invece il tempo si può trovare, basta comunque avere la volontà giusta per potersi allenare. Ovviamente, quindi non ho tempo, significa non ho voglia di trovare il tempo, però insomma noi lo sappiamo, noi trainer lo sappiamo, e quindi io personalmente ho cercato un escamotage per far rendere conto alle persone che bastano pochi minuti, per lo meno per attivarsi. Poi ovviamente le mie lezioni al parco durano un'ora, però in pochi minuti, perché poi di fatto è quello che faccio anch'io, cioè io la mattina mi sveglio prima di fare colazione e faccio un po' di addominali, ma tre, quattro minuti e lo faccio da sempre praticamente. E io ho semplicemente, come dire, raccontato, cercato di trasmettere le nozioni che ho appreso sia sul campo come atleta che come allenatore, studiando ai miei allievi piano piano, cercando di renderle più appetibili possibili e anche più digeribili possibili. Perché un conto è dire, devi fare due ore d'allenamento tutti i giorni, un conto è dire, intanto attiviamoci con sei minuti, con otto minuti o con venti minuti come faccio con la mia trasmissione su Fox. Esattamente. Quindi senza pesi, senza attrezzi, poco tempo, poco spazio, non hai scuse, prova, i risultati ci sono, ci sono in poche settimane, voglio dire. Tanto guarda, possiamo far vedere anche, lo faccio anche grazie all'ausilio proprio del tuo programma, perché insomma sono tantissimi i posti all'aperto proprio a Roma dove insomma ti possono incontrare, anche perché qui leggo Piazza Navona, Villa Torlonia, Villa Panfili, Villa Ada, insomma hai scelto però anche questi parchi proprio per, anche come insomma punto di aggregazione, perché ovviamente poi la palestra è anche questa, diciamo quella tradizionale, quella chiusa. Ma sì, la decontestualizzazione dell'allenamento è una cosa che a me stuzzica molto e che comunque fare una lezione alle 7 di mattina a Piazza Navona per esempio è un'esperienza molto molto carina che comunque ti sposta un pochino dal concetto tradizionale di fitness, della fatica, anche del semplice tornello, del coso che a me personalmente ricorda, che ne so, un posto di lavoro, mi sembra un obbligo, devo passare il badge, hai fatto questo, hai fatto questo, invece il concetto di libertà è un concetto che a me interessa molto, quindi a me piace sentirmi libero e ho immaginato che anche altre persone potessero avere questa sensazione, quindi perlomeno quando mi alleno voglio sentirmi libero di fare quello che voglio anche nelle formule di pagamento, di non avere troppi vincoli, di non dover per forza passare davanti a un desk, eccetera eccetera eccetera, iscrizioni, tutte queste cose che secondo me sono faraginose, noiose, invece la gente vuole allenarsi, anche diciamo proprio, esatto, proprio sul... il pratico, una cosa pratica che ti faccia ottenere qualcosa, che ti faccia divertire, scaricare eventualmente e ovviamente anche di qualità, perché comunque dietro c'è un grande studio ovviamente. Tra l'altro Fabio possiamo dire, visto che comunque la stagione estiva è iniziata, ormai la prova costume, abbiamo superato da... Ormai pensiamo alla prova costume di carnevale, esatto, nei prossimi mesi, ma si può recuperare anche in così poco tempo, visto che comunque... oppure meglio pensare direttamente al prossimo anno? No, io questo no, perché comunque un'attivazione fa comunque bene e poi soprattutto in vacanza io immagino che ci sia molto tempo, immagino anche che molta gente non ha voglia magari di farlo, però tanti altri sì e quindi dedicare una giornata intera quando sei al mare a pochi minuti per te stesso non fanno altro che giovarti e rendere comunque l'esperienza più piacevole, quindi non c'è soltanto la prova estetica del costume ma c'è anche e soprattutto il benessere che è un concetto che poi va di pari passo, quindi tante volte mi trovo a, tra virgolette, attrarre le persone con il discorso estetico, però in realtà il mio obiettivo principe è quello di proporre una ventata di benessere, un'alternativa di benessere, dei parametri che ti permettano a lungo termine anche di sentirti meglio e questa è la cosa più importante sicuramente e la gente se ne rende conto. Assolutamente sì, però nel 2011 sei stato protagonista della start-up della catena, anche di palestra, soprattutto di Madonna, un'esperienza in Messico perché comunque Madonna aveva deciso di iniziare proprio da lì. Madonna sa bene come fare il business, è comunque brava e ha creato questa palestra che era un gioiellino, io poi insomma sono capitato lì quasi per caso, in effetti ero andato lì in una vacanza esplorativa ma non sapevo neanche che ci fosse questa palestra in Messico, io personalmente cercavo una palestra per allenarmi perché lì è un po' difficile allenarsi all'aperto perché è una città molto particolare, quindi c'è uno smog insomma abbastanza, poi non conoscevo luoghi, quindi insomma cercando su internet ho trovato questa palestra, appena sono arrivato, la prima cosa che ho chiesto è scusate ma cercate qualcuno per lavorare perché era bellissima e allora da lì è nata questa avventura, mi sono trasferito praticamente in dieci giorni in Messico e ho avuto molte gratificazioni perché sono ripartito da zero, nonostante qui a Roma ormai avevo creato il mio lavoro eccetera e sono ripartito praticamente da zero, ho iniziato come semplice istruttore e poi in sei settimane mi hanno promosso fitness manager, quindi mi hanno subito valorizzato e questo mi ha dato anche molta sicurezza su me stesso, capire anche le possibilità che avevo e quando sono tornato a Roma e sono dovuto tornare per motivi personali ho deciso di sviluppare al massimo questi input e soprattutto questa energia che avevo preso dall'esperienza messicana una barra americana perché in realtà era una palestra americana tra piantate in Messico Cosa ti ha lasciato allora proprio quell'esperienza anche dal punto di vista, prima del professionale lo stavi raccontando ma credo anche proprio a livello umano visto che comunque... Sì è stata bellissima, anche io sono ancora in contatto con il direttore, con tutti i trainer della palestra perché era proprio un ambiente particolarmente accogliente e mi hanno fatto capire che il concetto veramente americano della meritocrazia, lavori sodo, vali, vai avanti che non sempre è facile replicare qui in Italia però io ho cercato di trovare le situazioni per cui mi levassi tutte le sovrastrutture che ci sono dietro al sistema anche al sistema fitness e quindi trovando questa strada sono riuscito ad andare dritto verso quello che io volevo, quindi ho sviluppato al massimo sì e questa soprattutto questo entusiasmo e questa capacità di poter crescere che mi ha spinto poi Che questa è la cosa che ti ha colpito di più diciamo in quell'esperienza, impatto training Training significa soprattutto intensità, quindi diciamo è questa la prima, è una delle tue priorità comunque anche trasmettere questo messaggio Sì, che l'intensità poi è un concetto molto che va spiegato in qualche modo in parole semplici lo spiego ogni lezione perché ci sono sempre persone nuove e l'intensità è comunque un concetto soggettivo quindi intensità non vuol dire per forza devo essere già un atleta ma intensità basta anche uno sforzo che sia comunque leggermente più del moderato Certo Quindi ci sono proprio dei parametri semplicissimi da spiegare quindi praticamente se tu vieni a lezione e ti dico guarda oggi è la tua prima lezione o come spiego nei miei video su youtube l'importante è che tu sia abbastanza intenso per oggi Tutto ciò che per te significa questo e quindi significa che io e te faremo lo stesso allenamento perché io ti propongo lo stesso esercizio però tu lo farai al tuo ritmo io lo farò al mio Certo Se ci fosse accanto a noi Usain Bolt lo farebbe da medagliato olimpico però insomma non è una cosa che comunque scalfisce quello che tu stai facendo quindi questo concetto di intensità permette a tutti noi tre di ottenere risultati perché ognuno di noi sta facendo il suo allenamento Ovviamente anche con i propri ritmi Anche con i propri ritmi e mi sono spinto ancora oltre perché poi in questa sto facendo una trasmissione come dicevo su Fox Sport che sta andando in onda in questi giorni e continuerà ad andare in onda in cui ho preso mio padre che lavora con me in realtà Esatto che comunque poi voi lavorate insieme Sì 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 assolutamente mio padre insomma ha 67 anni adesso farò 67 anni ed è in forma ovviamente perché si allena e gli ho fatto fare la versione senza salti di ogni esercizio quindi io faccio comunque la versione Diciamo la professionista o comunque avanzata No no gli esercizi sono sempre mediamente però un po' più avanzata magari con un po' più di saltelli però so anche che tante persone magari non possono saltellare per piccole patologie e quindi c'è una versione analoga contemporanea di una versione a basso impatto quindi semplicemente senza saltelli che non è meno efficace Certo E' un'alternativa in più per levare veramente ogni singola scusa quindi questo permette al netto ovviamente di... Sceglie il suo ritmo, ognuno va alla sua intensità e tutti otteniamo dei risultati, ci divertiamo, stiamo insieme, socializziamo Chiaro Senti Fabio, diciamo ovviamente l'esercizio fisico è la prima cosa soprattutto per chi vuole comunque mettersi in forma però è importante anche l'alimentazione soprattutto anche diciamo bruciare i grassi in eccesso dopo l'esercizio perché insomma poi effettivamente bisogna accompagnare questo processo Beh sì, questo ormai è risaputo l'alimentazione è importante tanto quanto l'allenamento perlomeno e anche lì io mi prodigo a dare dei consigli molto semplici senza sostituirmi mai al dottore nutrizionista nonostante io stia prendendo la mia terza laurea in alimentazione però fino a che non finirò il percorso Certo però secondo me un trainer preparato dia dei consigli di base senza entrare nello specifico di una dieta personalizzata però tante volte si tratta anche di riordinare un pochino perché molto spesso è una questione di educazione alimentare e di conoscere dei piccoli trucchetti forse non è la parola giusta però mettere insieme un pochino di pezzi di cose che più o meno sappiamo tutti però metterle bene in fila incredibilmente porta al risultato in poco tempo quindi ah ma era così semplice sì è semplice perché poi dopo la reazione è quella soprattutto sì perché uno si aspetta sacrifici si aspetta cose inenarrabili diete a zero, carboidrati per 20 giorni no, non è questo è una questione molto più semplice e con un po' di costanza in poche settimane riesci sicuramente a migliorare a sentirti meglio avere più energia senza privarti di niente perché è quello che io ho scoperto negli anni di esperienza che tante volte la gente mangia molto meno di quello che dovrebbe piuttosto che di più quindi si tratta di aggiustare un pochino di dare un po' di consigli nella misura in cui ci permettono di migliorare assolutamente, tra l'altro insomma una cosa importante che possiamo sottolineare insieme in questo incontro di questa mattina è che te comunque stai accompagnando il processo, anche gli allenamenti di tanti personaggi dello spettacolo la cosa interessante è che comunque partecipano tutti tranquillamente ah sì ma certamente sono delle persone molto carine nel senso ci viene con noi Danny Mendez Manuela Moreno le ragazze dell'eredità per tanto tempo si sono allenati con noi ma anche sportivi Filippo Volandri per esempio viene ad allenarsi e la cosa carina per esempio Filippo prima del Rangaros è venuto a fare un po' di allenamento con me anche se lui ha comunque il suo preparatore però comunque a Roma quando viene a Roma fa delle fasi di rifinitura con me e lui è venuto ovviamente con lui ho fatto una lezione con lui perché aveva delle esigenze specifiche in un torneo internazionale però io l'ho fatto a Villada mentre le persone facevano lezioni con mio padre lui stava lì con me e faceva l'allenamento per il suo Rolanda Ross e lì a Villada tranquillamente serenamente quindi anche quello un po' per sfatare questo mito che un po' del mito che i grandi sportivi hanno esatto cioè in realtà sono ragazzi che si impegnano che fanno il loro lavoro con la massima dedizione però sono comunque ragazzi normali tra virgolette nel senso così come Manuela Moreno eccetera vengono fanno lezioni di gruppo socializzano tranquillamente perché il gruppo è sereno tranquillo e poi dopo vanno comunque avanti tranquillamente ovviamente con i propri ritmi visto che comunque prima parlavamo effettivamente ci dovrebbe essere solo quella come differenza nel senso è chiaro che un tennista professionista come il caso di Valdri o degli altri sportivi insomma hanno dei parametri completamente diversi beh sì sì poi soprattutto sì chiaro è chiaro è chiaro e soprattutto in una preparazione specifica ovviamente però nel caso degli altri vengono tranquillamente a fare lezioni che è anche più divertente secondo la mia personalissima opinione che fare una lezione asettica uno contro uno certo che non è che non faccio mai che non ho mai fatto però insomma trovo molto più stimolante la questione del gruppo anche per il miglioramento della performance io ritengo sono un grande fan della lezione di gruppo per migliorare più della lezione di la lezione individuale secondo me si ottengono ci sono molti benefici e si riesce a ottenere di più rispetto a uno contro uno ecco esatto senti mi ha colpito molto diciamo a parte gli esercizi in sei minuti anche gli esercizi specifici per gli addominali ma ci sono possiamo dare qualche segreto qualche consiglio a chi ci sta seguendo adesso a casa guarda sugli addominali sperimentare sugli addominali ho messo parecchi video su youtube anche molto brevi ne ho messo uno addirittura da tre minuti perché in realtà come dicevo prima se appena ti sei svegliato la mattina prima di fare colazione fai poche serie di addominali veramente pochi minuti comunque hai attivato hai attivato dei processi metabolici e comunque sicuramente porta a qualche beneficio poi magari puoi anche abbinarlo ad un altro allenamento il pomeriggio perché come io la considero una specie di pillola di benessere non è come se prendessi una vitamina fai un po' di addominalini e comunque in poco tempo qual è il numero giusto allora che possiamo farlo anche e soprattutto al risveglio beh guarda come dice la mia professoressa con cui ho fatto la tesi non esistono allenamenti giusti allenamenti sbagliati quindi non c'è una formula giusta per tutti però sicuramente bastano come dicevo pochi minuti e potrebbero basta che vai su youtube guarda ne ho proposti almeno 4 solo sugli addominali in cui metto sempre il mio lavoro 30 secondi 10 di recupero con esercizi molto semplici o piccole varianti di esercizi che già si conoscono il crunch addominale cioè il classico addominale esatto però con piccole varianti magari già so con una gamba appoggiata per renderlo per far lavorare l'angolatura del muscolo per trovare un'angolatura un po' più difficile in cui magari bastano veramente poche serie quindi personalmente una cosa che possiamo dare un consiglio generale è che non è necessario per forza fare serie troppo lunghe anche perché se riesci a fare per esempio 50 ripetizioni di un esercizio io credo che sia il caso di cambiarlo perché vuol dire che ormai si è abituato il tuo muscolo a percepire quella sensazione di dolore quindi io personalmente anche ogni volta cerco di fare esercizi sempre più difficili in modo tale che dopo già 10-15 ripetizioni già non ce la faccio più quello trovo che sia più stimolante in quante settimane si può rimettersi in forma completamente perché prima dicevi che comunque esiste anche un tempo limite io credo sia molto importante questa è un'altra delle cose a cui tengo molto come in tutte le cose se ci pensi da un punto di partenza arrivare a un punto di arrivo io ho scritto a Chiarelettere nel sito 8 settimane lo scrivo anche nel volantino perché 8 settimane perché il tempo minimo sufficiente per ottenere un grande risultato il presupposto da cui parte è semplicissimo se il tuo obiettivo è perdere grasso per esempio e noi sappiamo dalla scienza che si può perdere fino a un chilo di grasso per settimana quindi facendo i conti proprio matematici un chilo a settimana in 8 settimane sono 8 chili e questo è sicuramente un cambiamento importante che poi non significa che finisce tutto in 8 settimane però è raggiunto già un primo importante step e nel frattempo io ho ottenuto quello che volevo cioè che ti sei motivato grazie anche ai risultati anche perché parte proprio tutto dalla testa Fabio anche l'obiettivo insomma come in tutti i campi come in tutti i campi assolutamente sì quindi è centrare quello ovunque 8 settimane e il tempo poi questo dell'aspetto mentale è un aspetto che ho approfondito molto soprattutto quest'anno ho preso questa certificazione come mental coach quindi ho approfondito molto la questione della psicologia positiva anche lì cose semplici piccole parole che possono cambiare comunque il risultato di una performance sia che stiamo parlando di un atleta di grande livello sia di una persona che vuole semplicemente stare più in forma quindi il messaggio che cerco di dare è sempre quello di tirare fuori il massimo di utilizzare tutti i meccanismi di positività per riuscire a ottenere l'obiettivo che tu ti sei prefisso abbiamo ancora qualche minuto insieme Fabio ti chiedo perché prima stai dicendo anche l'importanza del risveglio soprattutto per il tono muscolare quando sono le tue lezioni insomma perché ti trovano sempre ovviamente però a che ora inizi la mattina presto? io inizio la mattina presto alle 7 di solito 7, 7 e mezza abbiamo lezioni a Villa Torlonia è a Piazza Ravona poi già un po' più avanti nella mattinata alle 10 al laghetto d'ora di quinto alle 13 quando è inverno che è molto bello allenarsi col sole adesso facciamo lezioni alle 19 alle 20 comunque no partiamo dalla mattina presto anche per venire incontro alle esigenze di chi lavora perché molto spesso fare un allenamento dalle 7 alle 8 nonostante per molta gente all'inizio sembri una cosa difficile poi dopo diventa una routine è anche molto più gratificante perché tra virgolette ti sei anche elevato un bel pensiero ti senti meglio per te stesso è più energia perché quando ti alleni la mattina soprattutto è preferibile la mattina rispetto comunque agli altri orari anche lì il discorso è sempre molto dipende dai tuoi bioritmi però tendenzialmente quando ti alleni la mattina hai sicuramente più energia sembra un paradosso ma è così invece hai più energia da spendere durante la mattinata e anche secondo me a livello mentale sei più sereno perché sai che hai fatto qualcosa per te stesso per il tuo benessere ti senti meglio e questo ti aiuta ad essere più produttivo più positivo anche durante la giornata assolutamente quindi sì la mattina poi ovviamente se non hai tempo non è che diciamo beh non avevo tempo la mattina se no mi alleno più no ti puoi allenare tranquillamente anche in altri orari il pomeriggio per esempio durante l'inverno secondo me prendere l'energia del sole all'una e mezza è una cosa fantastica perché magari se no non abbiamo più chance quando fa buio alle 5 entri la mattina alle 8 e c'è alle 5 e poi ti chiudi dentro una palestra non hai avuto chance di vedere il sole magari adesso in questi giorni no visto insomma comunque la temperatura in questi giorni sentiamo il fresco infatti in questi giorni di Roma si sta bene al ponte al ponte della musica si sta freschissimi grazie Fabio Inter per essere stato qui grazie a te Gabriella grazie a te Andrea ovviamente sempre interessanti gli argomenti dei tuoi ospiti poi voglio dire insomma qualcuno che ha avuto modo anche di di lavorare in qualche maniera di allenare anche una delle mie preferite madonna vorrei essere io al posto tuo questa mattina Andrea però dobbiamo dare spazio ovviamente agli aggiornamenti delle notizie tante anche tanti gli sviluppi sulla questione ellenica stamattina tra l'altro la nostra redazione è subito all'opera per appunto apportare quelli che sono tutti gli ultimi sviluppi e tutti gli ultimi aggiornamenti 229 sì e 64 no una votazione drammatica che si è chiusa all'una di notte la Grecia è così salva una vittoria dura per il primo ministro Alexis Tsipras vittoria va sotto le grazie a tutti grazie a tutti